ciao a tutti gli amici dell'architettura sostenibile oggi voglio farvi vedere a che punto siamo nel cantiere di ristrutturazione di questa contrada per fare più spazio a ricavare un'unica stanza abbiamo demolito la tramezza esistente realizzata ancora nel 1800 in legno con la calce all'interno del materiale vegetale ricavato al bosco abbiamo fatto spazio ricavando una stanzione più grande per la cucina qui si può vedere la parete che abbiamo smontato è una parete composta da una struttura in legno lo spessore è circa 10 centimetri come le pareti abbiamo entro le nostre case in legno con all'interno un intercappedine di questo materiale vegetale ricavato dal sottobosco qui si vedono i pezzi di calce che formavano l'intonaco del muro perciò come si può vedere quanto dura un materiale vegetale ecco qui potete vedere questo è del 1879 siamo 2023 e il materiale si è mantenuto ancora alla perfezione all'interno di questa parete appunto ricoperta dalla calce perciò quando si va a realizzare un'architettura un edilizia sostenibile fatta con materiali con questo tipo naturali sappiate che la resistenza è molto alta se si sanno utilizzare per oggi è tutto vi saluto dal cantiere di questa contrada e ricordo la mia casa naturale è su edificidipaglitalia.com